fermateci vai oh torni indietro un po appoggia la ruota sulla mia dai certo che ce la fai ti serve solo poco poco di vai anche così sei messo bene dai è brutta lì è brutta no non è brutta è rifiuto è che si è impenato alla moto è tutto stacchino è tutto stacchino no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Apri, apri, Stefano, apri. 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 E' accetta, è accetta E' lì ci sono dei cunettoni molto grandi, ci sono cunettoni molto grandi Bisogna stare attenti non entrarci dentro No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ivan, Ivan, salta tuas No, 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 no Ti è arrivato Ti è arrivato No, 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 no Ti è arrivato 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 Ti è arrivato